ciao a tutti un nuovo video per stasera il secondo è rialetto che tritte oggi quindi vi faccio vedere cosa c'è halloween eccola allora un doppio tritte un abbonamento che potete scegliere mensile semestre all'annuale mi pare ma non sono molti sicuro perché non lo pago io mi pare che costa sui 20 euro ma non sono sicurissima e sono prodotti alimentari giapponesi allora questa è la box di ottobre di halloween angli angli halloween allora faccio vedere il giornalino qui sono i vari concorsi qui dopo vi faccio vedere vi sono le cartoline questo invece lo giro così lo vedete dopo aiuto qui ci sono un altro contest qua c'è esplora giappone hai tipo un test inizio cute or spooky cute tu sei un umano si hai un'identità segreta se non ci sarebbe c'era kiki di film di studio ghibli totoro studio ghibli pikachu tengo che non so chi sia k tanto meno questo è sempre lo studio ghibli e sadako non so chi sia una volta era più grosso il giornalino e qua un altro contest allora dove vi faccio vedere che per lotti ci sono infatti intanto che li faccio vedere così allora facciamo caramel corn sono molto carine le buste poi c'è sono il culo lungo però è tagliato a metà e tra pezzi gusto penso peperone poi c'è pikachu che sono biscottini al cioccolato questo è più halloween una barretta ma dopo leggo che cos'è le tringo che carine gusto che stai a fa metti a fuoco non capisco a siamo le granchi no dei gamberetti vabbè dopo leggiamo fa troppa luci su ok poi c'è il fantasmino sempre patatine poi c'è il pesce che l'hanno già messo un'altra volta che un dolce i kikat gusto la sette torta di mele se lo possono mangiare che a me non piace vabbè questi che sembrano grissini una faccia cattiva poi c'è questo coso piccolo la bevanda creme brulee è limitata andrà litto un la 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 come si chiama marcemello caramelle caramella pipistrello caramella che sarà coca cola di sicuro e anche questo che non so allora vediamo un po allora c'è come premium lipton creme brulee a è un tè col latte poi c'è ecco kit kat la torta di mele babbli tagliati berri zombie il pesce le pringles tom yam young bene che gusto non si sa maple butter birra moon e candy quindi sono caramelle alla mela vabbè qui sono i classici allora caramelle al mais le nostre vabbè scusatemi patatine al mais al caramello pokemon halloween chococorn sweet potato karusatsuma sticks quindi sono sticks alla patata dolce gaulish gummies frank and gum quindi sono ciclis halloween padding marshmallow halloween corn pizza flavor quindi al gusto di pizza monster stamp ramone al gusto di soda e quando mai un maibo rings main thai monster monster gum energy flavor grape soda gummi e un misterioso snack quale quale che manca a questo infatti non c'è quello misterioso ed è gusto non c'è scritto vabbè allora quindi questa è la box di ottobre halloween per questo video è tutto mettete un pollice in all'insù e iscrivetevi al mio canale ciao 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 a a a a a a